Se volete acquistare i crediti di FIFA passate su thefoodshop.com, link e codice di sconto in descrizione. Bene, grazie, siamo tornati su un nuovo video del Rottuacitua e abbiamo subito un pacchetto che apre lui. Ah, davvero? Io non stavo dovessero informare, però. E l'ha aperto, vabbè, l'escott, incredibile. Ma un po' di belli i contratti, quanto siete carini. Vabbè, niente, questa è la formazione, adesso la facciamo e andiamo subito con la partita. Ah, la situazione della classifica è questa. L'ultima partita, se la vinciamo, vinciamo il titolo. Se la perdiamo, andiamo comunque in sesta divisione. E si comincia a ragionare, perché la sesta divisione comincia ad essere livello intermedio, dai. Fino a mo' se siamo divertiti, infatti, abbiamo fatto le partite di Cristo. Ok, la squadra è più forte, ovviamente, della nostra, perché ti pare che noi abbiamo la squadra più forte di qualcuno. Quando noi giochiamo con la squadra di dollare, c'è uno che ha i stessi giocatori nostri, più altri. E' un il Luciano di Bala, che è 78, però so che è molto bagato. Oh, oh, tira. Oh, no. Oh, no. E' no. Perché ha stoppata? E' no. Perché ha stoppata? È l'angolo, vero? Sì. E dai, cazzo. Oh, Gio, ne so chi dalla. Ok. Guarda i cardi subito. Eh, subito, questo è il più subito che potrebbe essere. I cardi! 1-0 subito. Vai, muori. Sì, vai così. Beh. Mamma. Mamma, sì. Questi sei passaggi che richiede un vero allenatore. Fini e fuori gioco. E' un po' danni per Eirak. Venite nella partita fuori gioco. Io quello che attiva è statissimo, non fa niente. Giocavo, dai. Oh, 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 i cardi! Grandissimo finto. Dai, che tante tu un culo da tetto. Ma tante tu un culo, ma che stai a dir? Sì, saltalo! Eeeh! Dai, che sto rosso! Dai, che sto rosso, dai! Cazzo! L'hanno detto che mi importa, ti riuscì bello, esci! Non mi ha dato niente! Sta scherzà! Perché tira così, piace? Ci ha mai dato manco il giallo! Ma che sta a dir? Ma perché ti poggia ti abbassa? Eeeh! Perché sta a dire qui? Anzi, che tiraci! Oh, 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 oh! Oh, Dio, non ci sto a creare, cazzo. Anti-stress proprio, guarda! Tacc, tacc! Direi che il titolo ce lo portiamo a casa. Oh, da accesso rosso. Oh, ma questo, ma che cazzo è? Oh, vabbè. Dai, rega, ma questo è conti tua vendetta? Riccardi, lo prova, vediamo se lo fa. Eh sì, lo fa. È 4 a 0. Riccardi lo fa. È 4 a 0 a 94esimo. Perciò, ragazzi, veramente, se non si disconnette niente. 4 a 0, abbiamo vinto anche questo titolo! Oh abbiamo vinti tutti i titoli Ho sbaglio Ho sbaglio Vabbè comunque no Subito alla prossima Perché si comincia subito Con la stagione 6 Con la divisione 6 Incredibile Vai Allora come vedete Stiamo registrando La seconda partita Dopo 3 ore Perché Purtroppo ci siamo accorti Che non ha registrato L'ultima partita E voi probabilmente Qua sotto Mentre io parlo Vedrete scorrere Il risultato Della partita di prima Avevamo vinto 7 a 3 E abbiamo fatto Una partita veramente bellissima Cioè Biglia aveva fatto Due gol assurdi Da fuori aria Un gol pazzesco E è stata una partita Veramente bella E pure divertente era Però purtroppo Allora abbiamo avuto Fino al fischio di inizio E poi abbiamo avuto La fine Fischio finale Cioè dal fischio finale in poi Non ci ha registrato Tutta Non so come è successa Stata cosa Probabilmente Siamo sbagliati a clicca E poi alla fine Quando abbiamo cliccato In realtà abbiamo fatto cominciare Cioè quando abbiamo cliccato Per far finire Di registrare In realtà abbiamo fatto cominciare La clip E poi è cominciato quel pezzo E purtroppo è così Comunque abbiamo tre punti Abbiamo iniziato bene La seconda giornata La prima giornata Però niente Giochiamo subito Tony FC con lo sistema Della France Vediamo che squadra C'è questa Della France Della France Della France Della France Della France Ma giocano insieme Benzema e cosa Valbuena Comunque si comincia Speriamo di vincere anche questa Beh Ah ma allora scusa Allora sì Perisic Attenzione È partito Incredibile Icardi 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 E E Oh Oh Ok Oh Grazie Perisic Si presenta così Dai però Ma come fa questa Corri così Tanto Valbuena Tacci tua Mamma mia Lascia Lascia a me Ma che mi lascia a te Stavanti Paletta Paletta Stavanti Tira Porco due Porco Ari Porco due Ricordi Arbitro Arbitro Pazzo Dai Ma perché li abbiamo sempre con il suo angolo e noi non li eravamo mai Non è possibile Varan Eh perché lui c'è giocatore Ecco perché Vai 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 Fallo Anzic Sì E che cazzo Sempre lui Dai Il capitano Il capitano Che tendrà più presenze Va bene Che cazzo C'è Ogni angolo Ma perché non fa uscire il portiere Ma non lo fa uscire Peggio Non mica tanto Daviano sempre Se il portiere esce Da te Guard Sì però Non è possibile Sta cosa Ma una presa di testa Oppure c'è la rimpallo Ma che è Perisic Perisic Metti Perisic Dalla Dalla Oh 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 Mi hai segnato Perisic Porco due Regà Perisic C'è un po' più forte De chi c'è No Per me Più forte Gisna Stop Va bene Entra 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 Oddio Vabbè comunque Sta partita Non è da meno Rispetto a quella Di prima Tanto perché C'è i coppiù Spettacolari Partime Vai Lo fai Segnato Oddio Mamma mia Che giuro Io penso che era fuori Ma pure dopo Non me ne so accorgi C'è Ho fatto No Ha tirata proprio sotto Il croce Ho capito No Non lo fare No Passala Passala Merda PEREIRA Ha eguagliato La fatica Di prima Incredibile Era il segno del destino Da là 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 Guarda Esci Vuoi rientrare Non sa più che fa E perdi C'è Si è drogato Questa è la droga sua Vaffanculo Ora si riconosce Però piglia È troppo forte Dove è tre 10 Noi puniamo 10 Vai 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 Andiamo per l'11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 No Cazzo Non è già No 12 Vabbè regà I colpiti sono 10 15 però Persic saluta Perché ho già fatto 5 gol Quanti da fatti Una cifra Non ho fatti tanti Non ho fatti tanti Comunque ci siamo rifatti Da partita Ci siamo persi E dietro ragazzi Se vi è piaciuto questo video Lasciamo 5.000 like I ragazzi Ci dovete avere Perché cazzo Guarda che partita Che abbiamo fatto Le stiamo vincendo tutte Praticamente Siamo già a 6 punti Con 2 partite De Criston si fa una canna Bella Ci vediamo al prossimo video Seguiti su Instagram Bella Grazie a tutti Grazie a tutti